Dopo una carriera sottotraccia come attore generico in diversi film musicali, i cosiddetti musicarelli, i commedie balneari degli anni 60 e anni 70, Flauto divenne noto come protagonista della grande produzione fiction Quiradis, su Tele Norba, nel ruolo dello schiavo della triremica arriva per ultima a Lipari. Nella terza puntata, e poi come conduttore dei Il Pomofiore, trasmissione in onda prima su Tele Alto Milanese e poi su Antenna 3 Lombardia tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Il Pomofiore era uno show basato sull'esibizione di dilettanti allo sbaraglio, probabilmente influenzando la versione televisiva della ben più famosa e durevole corrida. Inizialmente condotta da Corrado Mantoni sui canali Mediaset fino dai primi anni 80. La trasmissione proseguì col nome di Circo Pomofiore e Ciperita. Fino a poco dopo che Flauto lasciò l'emittente. Lucio Flauto fu anche l'anchorman dell'unico concerto in Italia all'aperto dei Beatles, al velodromo Vigorelli di Milano, dove oggi una targa ricorda la sua partecipazione all'evento. Lucio Flauto partecipò ad alcuni spettacoli rai come Il Gran Simpatico con Enzo Cerusico e La Gnagnera con Pietro Davico e Isa Barzizza ma la sua principale attività televisiva è legata ad Antenna 3 Lombardia, dove approdò dopo l'esperienza di Tele Alto Milanese. Qui condusse oltre al già citato Pomofiore, Ciperita, Bazzar 80, Bazzar Domani, Posta e Risposta, Il Salotto di Lucio Flauto, Casa Flauto, Sogno di Mezzanotte fu ospite fisso di altri programmi quali Il Bingo e La Festa, oltre che con Antenna 3. Lucio Flauto collaborò anche per un brevissimo periodo con Telemonte Penice sulle cui frequenze, riportò i dilettanti allo sbaraglio con il programma La Margherolla. Amico di Walter Chiari era spesso citato nei monologhi del grande comico.